Uno per botte, Matteo tu parti da là io parto da qua, uno per botte. Oggi è lunedì, ecco il nostro mister dei portieri, alla prossima viene pure un altro portiere. Ecco qua l'allenamento dei baby atleti, i più piccoli, quelli di 5-6 anni, c'è mister Antonellucci e mister Matteo. E' merda, umpigliato di padre. E' merda, umpigliato di fara essere il nostro neste, E' merda? E' merda, io.